...dell'assia dei signori, del considerare più importante qualcosa che, grandemente, non è importante, eppure è il nostro amico. E' quello di cui noi merendiamo, è quello che magari pensiamo, ma diciamo, un po' di semplicità e di risultato di noi, dentro di mostro di noi, così. Gesù mi ha mantenuto, c'è un po' di pari, a fare un po' di canzioni, però non sono più concentrati, anche, anzi, la regola non è una generazionale nostra, che si vede a fare un po' di canzioni. Grazie. 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 Grazie.